Campionati milanesi universitari 2018-2019 Il basket femminile ripropone la finale della passata stagione In campo, per difendere il titolo, le campionesse in carica di Cattolica A sfidarle, sono ancora una volta le maglie verdi di Statale Entrambe le formazioni approdano in finale con una sola sconfitta sulle sette partite disputate in stagione Cattolica conduce la gara fin dai primi minuti Sfruttando la fisicità delle sue giocatrici, competitive sui rimbalzi I primi dieci minuti finiscono sul 13-19 Ma nei successivi periodi, le maglie rosse di Cociano di Vino allargano il margine di vantaggio oltre i 10 punti Per la formazione statalina dare l'impronta alle azioni e dei ponti Cattolica tiene alto il ritmo con le penetrazioni di Zuccoli e Lazzarese Il terzo quarto finisce un parziale di 41-19 per le ragazze di Anzivino Che possono così affrontare la restante parte della gara con una certa sicurezza La sirena finale chiude la partita sul 50-32 per Cattolica Le ragazze in maglia rossa mantengono così il titolo di campionesse milanesi universitari E aumentano di 35 unità il tenteggio della propria università nella classifica della Coppa delle Università